Gentili telespettatori, buona giornata. Il 25 settembre, come voto anticipato, sarebbe da escludere questa data. La motivazione non la conosce nessuno, ma io ve la comunico. La data 25 settembre era stata ipotizzata con il 2 di settembre e il 9 di ottobre. Queste tre date. 25 settembre, 2 ottobre, 9 ottobre. Per andare alle urne dopo la crisi di governo. Ma quel giorno inizieranno i festeggiamenti del capodanno ebraico. Letteralmente si chiama il Rosh Hashanah, se lo pronuncio bene, letteralmente capo dell'anno. È una delle ricorrenze più importanti del popolo ebraico. Cade nei primi due giorni di Tishri, il mese che apre l'anno della comunità religiosa, che in Italia conta circa 40.000 persone. Quest'anno verrà festeggiato da domenica 25 a martedì 27 settembre. Insieme al 2 e 9 ottobre, la quarta domenica di settembre, era stata presa in considerazione per possibili elezioni dopo la crisi di governo, scoppiata il 14 luglio in seguito alla mancata fiducia al decreto legge aiuti da parte del Movimento 5 Stelle. La prima delle tre date ipotizzati dovrà però essere esclusa per dare modo alla comunità ebraica di prendere parte alle celebrazioni del giorno del giudizio. Per questa ragione la data del decreto di scioglimento delle camere sarebbe stata spostata in avanti di qualche giorno, a venerdì 29 luglio. Quindi scioglimento delle camere non prima, ma il 29 di luglio. In tal modo si andrebbe alle urne ai primi di ottobre. Sulla base delle norme che regolano i rapporti tra Stato e l'unione delle comunità ebraiche italiane, il nostro Paese riconosce agli ebrei il diritto di osservare il riposo sabbatico durante questo Rosh Hashanah e altre festività religiose. Secondo l'articolo 61 della Costituzione, l'elezione delle nuove camere hanno luogo entro 70 giorni dalla fine delle precedenti. Se l'attuale Premier nel corso delle comunicazioni del 20 luglio a Palazzo Madama confermasse le proprie dimissioni, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella potrà a sua volta sciogliere anticipatamente le camere e indire nuove elezioni. Intanto passiamo a un'altra notizia e vi racconto dei capoluoghi più cari d'Italia. L'inflazione che sta salendo addirittura del 9% su base annua con una spesa aggiuntiva equivalente a 2.443 euro a famiglia. La Lombardia è la seconda regione più costosa. Ci sono classifiche dove è meglio finire ultimi, ecco soprattutto in questa, non è un vanto essere sul podio ai primi posti. Ma vediamo che si parla di capoluoghi con almeno 150.000 abitanti, numeri messi in ordine dall'Unione Nazionale Consumatori che ha stilato la classifica delle città più care d'Italia in termini di aumento del costo della vita. In testa c'è Bolzano dove l'inflazione annua è pari a più 9,7%, la più alta del paese insieme a quella di Palermo. Un netto rialzo che si traduce nella maggior spesa aggiuntiva annua equivalente in media a 2.578 euro. Al secondo posto Milano dove la crescita dei prezzi è pari al 9%, per un incremento di spesa pari a 2.443 euro per una famiglia media. Sul gradino più basso del podio c'è Trento dove il più 9% genera una spesa supplementare pari a 2.355 euro annue per una famiglia tipo. Al quarto posto troviamo Brescia con più 8,5%, è più 2.241 euro. Poi troviamo Bologna più 8,9% con un incremento di 2.220 euro. In sesta posizione troviamo Verona con 2.188 euro. Poi Ravenna con più 8,8%, 2.127 euro. Poi troviamo Padova con più 8,6% più 2.002 euro. Poi segue Trieste con più 8,6% più 1.996 euro. Chiude la top 10 Modena con più 8,2% pari a una spesa aggiuntiva di più 1.982 euro a persona. Le regioni più costose abbiamo l'inflazione al 9,3% con il Trentino Alto Adige. Segue la Lombardia con l'8,1% di incremento. Il Veneto più 8,5%. Poi la regione più risparmiosa è il Molise con un rialzo annuo che vale il 6,6%. Seguito dalla Puglia con 8% e Marche più 7%. Bene, queste sono le notizie che sono assolutamente abbastanza non simpatiche. Io vi ringrazio per avermi ascoltato. Vi ricordo che tra una ventina di minuti ci sarà disponibile un altro video qui su Teleitalia. Ricordatevi che c'è anche l'altro canale Teleitalia Seconda Rete dove trovate video di politica, di notizie, di fai da te. E questi video dei due canali di YouTube Teleitalia e Teleitalia Seconda Rete li trovate poi disponibili sulla pagina di Facebook dove li condivido dopo qualche ora in modo che se vi sono interessati li potete poi condividere sui vostri profili. Bene, tra una ventina di minuti altri aggiornamenti per capire la situazione politica come evolve in questa settimana assolutamente decisiva per il Paese. Nuovamente buona domenica e ci vediamo presto. Grazie a tutti.